Grazie a questi due oggetti voglio insegnarti qualcosa di più sulla pronuncia. Alcune delle differenze più importanti tra la pronuncia American English e quella British English. Partiamo dalla prima domanda. What's this? What's this? A parte il fatto che è un'acqua che viene dalle mie montagne, quindi dai monti Sibillini, ma non è pubblicità, è semplicemente aiutare il mio popolo, soprattutto dopo l'earthquake, il terremoto di un po' di tempo fa che ha distrutto veramente paesi interi. This is a bottle of water. What's this? It's a bottle of water. Ok, fin qui facile, scritta a bottle of water. Ok, qual è la differenza? Che a bottle of water è quello che si studia, si sa, leggendolo si capisce, ma un conto è leggere l'inglese e un conto è sapere l'inglese. Facciamo subito un esercizio pratico. Quindi, nell'inglese britannico standard, che è quello della BBC, a bottle of water. A bottle of water. Questa è la pronuncia corretta. A bottle of water. Quindi già se sei abituato a vedere solo la scritta e non il suono, quando in Inghilterra ti diranno a bottle of water, in mezzo ad un discorso già complesso per di suo, è probabile che te la possa perdere. Prima di vedere le differenze tra il British English e l'American English di bottle of water, questo è l'elettrodomestico più importante nel mondo anglofono. Nel mondo anglofono. Se infatti vai in qualche catena alberghiera americana, troverai questa sempre dentro. Alcuni dicono boiler, perché dice bollitore, boiler. No, il boiler è quello che sta nel bagno per scaldare l'acqua, oppure quello che sta sotto gli edifici per scaldare l'acqua dell'edificio. Quello è il boiler. Ovviamente se dici boiler ti capiscono, ma questo non è boiler, ma è kettle. Tant'è che quando gli inglesi o gli americani tornano a casa e chiamano alla moglie, dicono Hello, I'm arriving in five minutes. Sto arrivando in cinque minuti. Put the kettle on. Metti sull'acqua per il tè. Noi italiani diciamo metti sull'acqua per la pasta, loro dicono put the kettle on. Metti sull'acqua per la pasta in Italia, metti sull'acqua per il tè o il caffè in Inghilterra e in America. Torniamo alla nostra bottle of water, pronuncia standard, e andiamo a vedere come si pronuncia nell'estremo accento inglese, che è la pronuncia di Londra, e andiamo a vedere come si pronuncia in America. Bottle of water, standard English. A Londra per una bottle of water ti verrà detto A-bo-a-wo-a. A-bo-a-wo-a. Cioè le R non ci sono, le T non ci sono, praticamente c'è solo una B con vari suoni e ammassati tra di loro. A-bo-a-wo-a. E la prima volta che io ascoltai A-bo-a-wo-a a Londra, dopo, e già parlavo bene inglese, mi ricordo che rimasi di sasso, perché dico, oddio, non so più l'inglese. Lo slang di Londra è A-bo-a-wo-a. Niente T, niente R, e quindi tanto vale abituarci sì subito, anche perché se A-bo-a-wo-a diventa A-bo-a-wo-a, immagina tutto il discorso, cosa può diventare. Andiamo in America. È un po' più semplice per noi italiani comprendere l'American English, perché a prescindere dai tuoi gusti, io preferisco personalmente il British English, in American English la R alla fine delle parole si pronuncia sempre, in più le T si trasformano un po', ma si sentono. Quindi questa diventa A-bottle of water. A-bottle of water. Prova insieme a me. A-bottle of water. Diventano un po' tutte R. Di là A-bo-a-wo-a diventano tutti A-bottle of water. A-bo-a-wo-a. A-bottle of water. In nessuno di questi casi dici A-bottle of water. Ok? Non è per prenderti in giro, ma è per farti capire quanto anche solo una semplice bottiglia d'acqua può salvarti la vita. Thank you very much and see you on the other side. Lo sapevi che bere acqua calda alla mattina fa molto bene per il corpo? È come una doccia e un massaggio interno che ti rivoluziona la giornata? Provalo e fammi sapere. Bye bye. Grazie per aver visto questo video di inglesevero.it A prescindere dal tuo livello ti consiglio di riguardare il video almeno tre volte. Esatto, tre volte. Perché? Prova e vedrai tu stesso cosa cambia. Nella maggior parte dei video trovi anche una lezione allegata e dettagliata con informazioni e curiosità che non trovi in nessun libro o dizionario d'inglese. Controlla nella descrizione qui sotto se la lezione è allegata anche in questo video. Se il video ti è piaciuto, ti è sembrato utile o ti ha ispirato in qualche modo, aiutami per favore a diffonderlo lasciandomi un commento qui sotto o e condividendolo con i tuoi amici. Solo così potrò continuare a produrre materiali di qualità e gratuiti per tutti. Se ancora non mi conosci, ti invito nel mio sito www.inglesevero.it dove troverai contenuti, curiosità su come imparare, mantenere e praticare l'inglese in modo concreto o in modo vero, come lo chiamo io.